Ciao a tutti, oggi prepareremo il tonno gratinato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, tonno fresco, olive nere snocciolate, mandorle pelate, aglio, prezzemolo, basilico, olio evo, vino bianco, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il prezzemolo e il basilico, le olive e l'aglio ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Il trido è pronto, posizionarlo sulle fette di tonno, senza lavare il boccale, mettere il vino bianco, l'olio, il pepe e il sale ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Versare l'emulsione attorno al tonno, senza lavare il boccale, mettere l'acqua, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Il tonno è pronto, impiattare e servire. Tonno gradinato, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.